Eccoci, eccoci. Vi abbiamo lasciato con una foto, due foto. Nel frattempo qui qualcuno diceva chi era, il telefono squillava, poi cadeva. Ecco di nuovo la foto. La prima foto, bellissima, bellissima e intelligente. E anche simpatica. Ho capito, è simpatica, io la conosco, ho preso anche con lei qualche aperitivo, con te, con tante amiche, ma il telefono è bugiardo, cade, si vede che stiamo un po' a distanza. Non riusciamo a metterci in contatto. Chi è questa? Franco, tu hai capito chi è? Penso la moglie di un calciatore del Napoli. Esatto, è la bellissima Deborah Rossetti, moglie di Andrea Dossena. E noi questa sera abbiamo un'esclusiva, perché Deborah in confidenza ci ha detto che è in dolce attesa. Quindi vi facciamo un applauso. Auguri. Quindi ci sarà Scicogna in arrivo in casa Dossena. E quindi Dossena non deve dare di più.